Amici di Youtube e di Instagram, buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti, benvenuti al consueto appuntamento con l'edizione giornaliera di oggi Buona... buona... sosta, una sosta... buona sosta... già detto buona sosta c'è qualcosa che non va perché la parola sosta non può stare accanto alla parola buona Cioè, sosta non è buona, c'è poco da fare, comunque, mi raccomando ragazzi, tutto buono, mercoledì 9 ottobre, benvenuti a tutti quanti Mi raccomando perché dalle Analytics che voi conoscete molto bene e da tutte le indicazioni di Youtube Studio la maggior parte di voi non è iscritta al canale Beh, cosa state aspettando? Mi raccomando ragazzi, like e iscrizioni totalmente gratuite, allo stesso prezzo di Ciaranoglu, Turam, Taremi, Zielinski, Mkhitaryan, eccetera, eccetera, eccetera Allora, insomma, arriviamo alle news, arriviamo alle news di oggi Insomma, una cosa inconcepibile che io purtroppo non capisco è la convocazione di Marcus Turam Con la nazionale francese Stiamo parlando di un giocatore, innanzitutto, che ha avuto un problema non proprio, diciamo, leggerissimo al polpaccio E' vero che comunque, alla caviglia scusatemi, è vero che comunque hanno fatto tutti gli esami strumentari Non c'è nulla di rotto o di girato Però se uno deve fare comunque solo un esame o solo fisioterapia E ha la caviglia comunque ancora gonfia, non in condizioni, diciamo, eccellenti Ma perché non rimane ad appiano? Cioè, la mia domanda non è tanto dire perché non viene rimandato a casa, ma perché non rimane ad appiano? Cioè, non capisco il motivo per cui un giocatore già con una caviglia, non dico distrutta Però non proprio al massimo livello di salute Deve rimanere, andare, viaggiare con la nazionale Boh, a me sembra una situazione veramente surreale Contando che non è che il ragazzo deve fare degli allenamenti O deve seguire una cura personalizzata con un medico francese Cioè, no, deve soltanto fare fisioterapia A questo punto la può fare benissimo ad appiano Visto che c'è un Tejon Biucana che comunque sta finendo gli ultimi preparativi Per tornare tra i convocati con la Roma dopo la sosta Stessa cosa la sta facendo Nicolino Barella Non capisco veramente questa scelta Poi anche lì vai a capire se è una scelta Sicuramente non è una scelta dell'Inter Questo lo dobbiamo dare per assodato Sappiamo che c'è questa sudditanza purtroppo delle nazionali Che continuano a regnare sovrana Nonché l'ultima dimostrazione di addirittura l'allenatore dell'Argentina Il CT Scaloni che si permette pure di criticare le squadre europee Cioè, robe veramente che non stanno né in cielo né in terra Però dico ancora che Cioè, non si regge in piedi, poverino Perché adesso, cosa gli voleva chiedere Deschamps? Di scendere in campo? Dai, ma non scherziamo Cioè, in quelle condizioni lì E poi addirittura Oggi Deschamps nella conferenza stampa Prima della partita della Francia con l'Israele Dice La caviglia non è ancora a posto E grazie al cazzo Cioè, come doveva essere la caviglia? Neanche tre giorni fa Poco poco si rompeva Per quell'intervento killer Che al qualche gobbo si permette pure di dire che non era rosso E dice che si allenerà a parte Marcus Mi sembra veramente una roba Veramente ai limiti dell'imbarazzante Cioè, devo dirla perché Un ragazzo che Non è assolutamente Non al 100% Non è in una condizione nemmeno di mettere piede in campo Neanche per una rifinitura Cioè, che senso ha? Che senso ha? Portarlo e chiamarlo il nazionale Boh Veramente robe inconcepibili Detto ciò È brutto parlare di mercato ad oggi Parleremo dopo della questione David Nome che abbiamo sempre fatto Anche noi in primis Sappiamo la concorrenza spietata che ci sarà Per questo inverno Per portare il giocatore a casa Nella sessione estiva a parametro zero Sappiamo assolutamente che Oltre a noi ci sono grandi squadre A chi stanno adocchiando il giocatore In Italia ci sono anche i gobbi Però Dopo Arriviamo con calma Innanzitutto Aslani ha avuto Una contusione Una leggera contusione Al polpaccio All'inizio si Diceva che fosse un guaio muscolare Invece la gazzetta oggi era assicurato Dicendo che È Soltanto una contusione al polpaccio Quella rimediata da Cristian Aslani A proposito di ciò Andiamo a vedere appunto gli impegni Delle nazionali Che lo so Non so quanto ve ne possono fregare Però Vanno dette per onor di cronaca Innanzitutto vabbè Venerdì appunto Scende in campo l'Italia Con La Francia Ma queste sono quelle vecchie però Aspetta che mi sia compreso quelle vecchie 4 settembre Sono quelle vecchie Scusatemi Sono quelle Sono quelle Sono quelle vecchie Allora Eccole qua Quelle nuove invece Quindi L'Italia Gioca giovedì Gioca domani Infatti mi sembrava strano Gioca domani Contro il Belgio In casa A Roma Quindi Bastoni Di Marco e Frattesi Tre convocati da Spalletti Saranno in campo Giovedì 10 E lunedì 14 Cristian Aslani Aslanino che Insomma non si cura la sua titolarità Venerdì contro la Repubblica Ceca E lunedì Contro la Georgia Il Toro giocherà domani sera alle 23 In quel di Maturin alle 23 italiane alle ore 17 per loro E poi Argentina-Bolivia mercoledì 16 alle ore 2 di notte E qui lo dico già e avviso in ottambuli come me Perché sapete benissimo che Io Delle gare in nazionale del Toro Sia che giochi o che non giochi L'Argentina io me la vedo sempre Per motivi di impegni Quando posso guardo anche l'Inter-Miami Insomma Per in ottambuli come me Insomma Sono informazioni che vanno date Per quanto riguarda Marco Arnautovic con l'Austria Invece giocherà giovedì 10 Allora 20.45 Contro il Kazakistania E poi Austria-Norvegia domenica 13 Turam Che vabbè non giocherà sicuramente Però per onore di cronaca la Francia Giocherà con l'Israele Giovedì 10 E con il Belgio in trasferta a Bruxelles Lunedì 14 Medi Taremi L'Arcere persiano con l'Iran Giocherà contro l'Uzbekistan Giovedì 10 alle 4 E poi con il Qatar Martedì 15 alle 18 Devrai e Dunfries con l'Olanda Giocheranno in Ungheria Alle 8.45 di venerdì 11 Contro la Germania a Monaco Lunedì 14 Zielinski con la Polonia Giocherà con il Portogallo sabato 12 Alle 8.45 a Varsavia In casa anche contro la Croazia Martedì il 15 Contro la Croazia alle 8.45 Ultimissimo Ciala Giocherà con il Montenegro Venerdì 11 alle 8.45 E poi in Islanda Tra l'altro a Reykjavik Paese d'origine nativo di Albert Gudmundsson Dove tra l'altro dovrà pure fare il processo Per quella Insomma vicenda Di accusa legata Alla violenza Sessuale Contro la Turchia Giocherà l'Islanda Proprio lunedì 14 Alle ore 20.45 Fa specie una cosa Che in pochi hanno detto E appunto per questo Il mio canale deve informare Non vi sembra un po' strano Che Andando a vedere la rosa della Juve Adesso faccio un esempio Perché No non è un esempio La rosa della Juve C'entra chiaramente la Juve Quando c'è qualcosa di ambiguo Guarda caso C'entra sempre la Juve Andiamo a vedere la rosa della Juve Quanti nazionali ha la rosa della Juve Beh abbastanza Abbastanza Molti Vabbè Bremersi è infortunato Ci mancherebbe altro Insomma Kalulu Vabbè Non l'hanno mai convocato di nazionale Douglas Luiz Non vedo perché Non debba essere convocato Con Seisao Ma attenzione Vlaovic Ma attenzione Perché Nico González Doveva tornare dall'infortunio Qualche giorno fa Però guarda caso Arriva la sosta E beh E beh Aumentiamo i tempi di recupero Ci mancherebbe altro Copminers Guarda caso Arriva la sosta E beh Ci deve essere sempre un acciacco Prima Andava bene tutto Dopo Ma Saranno solo coincidenze Direte voi Però Ad oggi quello che risulta È che nei convocati della Juve Ci sono Di Gregorio Cambiaso e Fagioli Con l'Italia Danilo con il Brasile Douglas Luiz Sparito nel nulla Chissà come mai McKennie UeA Con gli Stati Uniti Cabal Con la Colombia Copminers Che in realtà non sarà convocato E Ildiz Con la Turchia Vlaovic Dove andrà il nazionale Dove andrà Vlaovic Dove andrà il grande Fenomeno Principe di Belgrado Colui che sbaglia A due centimetri Dalla porta Poi la Champel Perché Sapete che a me Vlaovic è un giocatore Che piace anche Per me Non è scarso Vlaovic Rovinato chiaramente Dalla gestione Allegri Però come mai Vanno in Cinque o sei Nazionale Con tutti i nazionali Che ha la Juve Bah È quello C'ha male alla schiena Quello c'ha male di là Quello Douglas Ruiz Sempre stato convocato Con la nazionale brasiliana Guarda caso Non parte No era giusto Per onor di Cronaca E attenzione Però dico Bah Chissà com'è Che da noi Ce ne sono Vabbè che Noi siamo di un altro livello Sicuramente Mi direte voi Però Su 12-13 Nostri che vanno Da loro Gli ne vanno cinque Vlaovic Con sei Sao Dove cazzo sono Dove vanno Li avete visti voi Per caso Dove vanno Questi qua Boh Boh Douglas Ruiz Dove va Boh Nico Gonzalez Dove va Boh Comunque A parte tutto Innanzitutto Tornando al discorso Di mercato Jonathan David Che Sappiamo Sapete tutti Piace molto All'Inter Soprattutto In particolar modo A Pierone Ausilio Ci sono stati Dei contatti Questo lo sappiamo Lo confermiamo Che vanno avanti Da parecchi mesi Certo È un'operazione Difficile Ma non tanto Perché Comunque L'Inter Non ha il blasone Perché è normale Che David Ad oggi Se dovesse scegliere Tra Juve Inter O magari Qualche squadra Di Premier Che non sia Chiaramente Il City O l'Arsenal Sceglierebbe Di andare All'Inter Questo poco Ma sicuro Il Fattore Anche Scatenante Che potremmo Usare Per favore Nostro È anche Quello Di avere In rosa Buchanan Suo compagno Di nazionale Che potrebbe Favorire Poi anche L'arrivo Di David Ad oggi Lui non ancora Rinnovato Si parlava Lui è partito Dicendo che Il rinnovo Non l'avrebbe mai Fatto No io me ne vado Basta Questo è l'ultimo anno Invece poi Nelle ultime Settimane Anche della sosta Scorsa Si parlava Che ci poteva Essere Questo Ricontatto Per firmare Il rinnovo Ma io penso Che sia una Strategia Per alzare La posta In palio In una futura Proposta Di ingaggio Alla prossima Squadra E l'avevo detto Anche nei video Della scorsa Sosta Ne stavamo parlando E continuavo A dire Questa cosa Qua Questo mio pensiero Poi rimarrà Mio pensiero Perché sicuramente Rimarrà Mio pensiero Però penso Proprio che Sarà l'ultimo anno Di David In Francia O perlomeno A Lille Poi magari va Il Paris Saint Germain E rimaniamo tutti Inculati Però È l'ultimo anno A Lille Dell'attaccante Canadese Sapete benissimo Quanto Io vado a Io vado a Amato Per David Io l'ho Sempre voluto All'Inter Anche quando si parlava Quei Vi ricordate voi Quattro anni fa Che erano voci Chiaramente solo Di corridoio Non è che c'era Nulla di concreto Quando si parlava Di David 40 milioni Per L'estate Per Inzaghi Che ritrova Una punta veloce Lì sarebbe stato Veramente Tanta Tanta roba Ma David Fa parte Dei quegli attaccanti Forti Ci sono Tanti vari Tipi di attaccanti Ci sono Quelli dell'Olimpo Che sono quelle punte Clamorose Che piacciono tanto Al sottoscritto I veri numeri 9 Quelli Che Oltre che essere Goliador Sono anche Leader tecnici Registi Offensivi E poi ci sono Gli attaccanti Forti David È un attaccante Forte Un attaccante Che Ti può cambiare Le partite Un giocatore Che Non è un driblomane L'ho sempre detto Non è un driblomane Però è un giocatore Molto intelligente E sa Quello che deve fare In un'area di rigore È un giocatore Che si va A prendere i falli È un giocatore Che sa Bene o male Puntare l'uomo E andare In velocità Nonostante Non abbia Il dribbling Di Non lo so Di Yamal Nico William Stiamo adesso Facendo gli esempi Di giocatori Che sono forti In dribbling No però È un giocatore Di livello Veramente alto Che farebbe Fare Il salto Di qualità Impressionante All'attacco Dell'Inter In particolar modo Perché Uno che aggiunge Velocità Rapidità E scatti Non è mai Una Non è mai Un 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 aggiungere Niente È sempre Un plus Che ti puoi permettere In tutti I Segmenti Di campionato In tutte le situazioni Magari con Il mercoledì Di coppa Il big match Che devi giocare Domenica Insomma Sono quei giocatori Che poi Tu li metti in campo E bene o male Anche se gli dai Magari tre dettami Tattici O tecnici Insomma La partita La prestazione Te la tirano fuori Quindi Lui Ricordiamo Che per quelli Che continuano a dire Che l'Inter Prende solo bolliti Innanzitutto Ha 26 27 anni Vale 50 milioni Sul mercato 50 milioni Vale Perché Se tu lo prendi Cash Lo paghi 50 milioni Quindi Giusto per chi No per capire Perché visto che noi Siccome secondo i fenomeni Prendiamo solo gente Scappata di casa Presa a zero No Giusto per chiarire la cosa Tant'è che tu Ram Se tu lo andavi a prendere Due anni fa Da Gladbach Ti chiedevano 35 40 milioni Non te ne chiedevano di meno Giusto per Precisare E E L'operazione da fare E' proprio quella La Turam L'operazione da fare E' un'operazione Che ti consente Di pagare un ingaggio Magari più basso Al giocatore Però poi Delle commissioni Da dare alla gente Stessa operazione Che si è fatta appunto Con Turam Qualcuno non voleva Pagare le commissioni Alla gente E poi infatti Si è trovato Inculato Con un Marcus Turam Che gli ha segnato Sia l'andata Che al ritorno Nei due derby E gliel'ha alzato In faccia Tutto loro Per non voler Pagare le commissioni Quindi E poi Un'altra cosa Andando a prendere Comunque Un giocatore Di quel livello Di quella caratura In attacco Poi ti consentirebbe Anche di spendere Magari il budget In un quinto Di destra Per ingiovanire Per svecchiare Oltre a Biukanan Chiaramente L'anno prossimo O Che io sono convinto Che io non vi do l'ora Di vedere Biukanan In campo Ma non tanto Perché è una mancanza Di rispetto Per Darmiane Dunfries Che sapete benissimo Che io ho il massimo Rispetto Poi Dunfries Io faccio sempre a scudo Per difenderlo dalle critiche Darmiane Massacrato dopo Genova Prima di campionato E poi avete visto Che grande Partita ha fatto Per esempio Contro l'Atalanta O anche contro il Lecce Insomma poi Voglio dire La gente La gente La gente è fatta così La gente è fatta così Vede due passaggi Sbagliati Inizia a gridare A inneggiare Gesù E quindi Però Io non vedo l'ora Di vedere Biukanan Dopo la sosta Cioè dopo la sosta Dopo che rientri Poi chiaramente A pieno regime Cioè secondo me Ci vorrà ancora tempo Poi certo Convocato Convocato Però poi Per vederlo vero Vederlo In qualità Cioè Vederlo proprio In In rendimento totale Penso che ci vorrà Ancora qualche settimana Però Non vedo l'ora Di vederlo in campo Perché proprio Secondo me Nel turnover Che sta tuando Anche Inzaghi Troverà più spazio Rispetto Ovviamente Quello che Gli era stato concesso L'anno scorso Però io veramente Mi aspetto tanto Perché secondo me Io continuo a dire Io veramente Oltre a puzzare di crack Come puzzava di crack Bisse Come puzzava di crack Clamoroso Turam Però è proprio Secondo me Biukanan Nell'Inter di adesso È un jolly fondamentale Soprattutto in queste rotazioni Champions Campionato Che sta facendo il mister Sempre con la testa Senza mai cambiare Poi i dieci undicesimi Come tutti i coglioni Invece in Nege Che volevano Andare a Manchester Con dieci riserve E a prenderne undici Per farvi capire Un po' Il livello Di che mentalità europea E di che mentalità Vincente Abbiano questi Che si permettono Di dare lezioni al mister No giusto Per farvi Per darvi un'idea C'è gente Che ha chiesto al mister Di andare a Manchester Con le riserve Per prenderne 80 Per prendere 80 pere E tornare a Milano Con 8 gol 80 gol Per farvi capire No Che Mentalità Da Da grande Vincente Che hanno quelli Che criticano Simone Inzaglio E quindi Ti permetterebbe Di investire Sia sul quinto Di destra Ma anche sul centrale Che sappiamo Essere chiaramente La petina fondamentale Di Cioè Ti metterebbe a posto Praticamente la squadra Perché Non investi un euro Davanti Sì Paghi quei milioni Di commissione Alla gente Che non saranno Chiaramente 20 milioni E poi E poi E poi Ti assicuri un centrale Con il budget Che hai E sistemi Là nel reparto Di sinistra La casena di sinistra C'era a posto Quindi È un acquisto Che Allo stesso tempo Ti fa fare tre acquisti Senza manco immaginartelo Cioè Senza manco saperlo Tu compri David E Puoi prenderne altri due E sistemi la rosa E beh Non è proprio Non è proprio Una cosa così regalata Insomma Sappiamo comunque però Che c'è una concorrenza Aspirata Perché Perché come dicevo prima L'attaccante forte Sono quegli attaccanti forti Che la gente vuole E niente Quindi questo è Questo è il tutto E Ha parlato anche in zaghi Poi quando gli è Stato consegnato il premio Ha detto Campionato equilibrato E l'avevo detto Ci sono tante squadre Che si sono rinforzate Tantissime Vorranno contendere Il campionato all'Inter Champions Campionato Domanda Lui risponde Quando sei all'Inter Devi essere competitivo Ovunque E questa è È una risposta Che deve riecheggiare E deve No Andare Diciamo a lavare E pulire E sturare le orecchie A tutti i tristoni Che continuano A infangare Il nome di Simone Inzaghi Cosa che poi Sottolineiamo sempre Noi nei video Attenzione Cioè non è che ha detto Qualcose nuove Il dispendio fisico E di energie mentali È importante Ma è il bello del calcio Rischio a pagamento Vincere è difficile Rifarlo è ancora più difficile Lo dicono tanti allenatori Del passato Ma noi Ci stiamo attrezzando Per farlo Ultime Su Turam Ieri mi sono sentito Con il dottore dell'Inter Sta un po' meglio C'è qualche apprensione Ora lo vedrà Anche la Francia Speriamo che Ricopriva velocemente Ecco forse Era meglio Che il ragazzo Non partisse proprio Detto questo ragazzi Ciao a tutti quanti Buona serata Ci vediamo domani Con l'edizione Sempre attivi sul canale E sempre Forza magica Inter Like e iscrizione Sempre presenti Ciao